Oggi Marino Fa Mercato festeggia l'ampliamento, quanta soddisfazione? Abbastanza, siamo convinti che funzionerà, vediamo se andrà tutto bene. Oggi c'è l'inaugurazione del negozio, non abbiamo potuto farla a luglio per problemi di covid, distanziamenti e tutto quanto, abbiamo deciso di farla comunque dopo l'apertura del negozio e oggi abbiamo organizzato questa mini festa per quanto possibile, speriamo vada tutto bene, ci sarà la presentazione della squadra Rugby Junior di Badia Polesine, la cui faremo da sponsor, taglio del nastro dell'autorità e poi il concerto di Ruggero dei Timidi che abbiamo invitato oggi per ridere un po'. Perché scegliere Marino Fa Mercato? Per la qualità dei prodotti, rispetto al prezzo dei prodotti, perché siamo comunque una grande catena basata comunque su un aspetto familiare della cosa, quindi sapete sempre con chi parlate, rispondiamo sempre noi e le facce sono queste, nel senso non trovate nessuno di esterno o tutto quanto, è tutto fatto in grande ma in famiglia insomma. Che cosa vuole apportare alla zona, al territorio? Noi abbiamo cercato di portare una nuova grande realtà che sia sia per il discorso grande distribuzione, dall'abbigliamento alla ferramenta a tutto quello che può servire alle persone, sia con questo nuovo arredo io che è una realtà che prende tutto l'arredamento della casa, dal divano alla cucina all'arredamento completo, sempre nella politica di Marino Fa Mercato che applica prezzi accessibili a tutti, in maniera che tutti possono, non trascurando la qualità naturalmente della cosa. Il tutto viene sempre fatto all'interno dell'azienda e quindi anche quello che può essere un discorso trasporto, montaggi e tutto quanto, viene sempre seguito da noi sia l'assistenza che tutto quanto, insomma, quindi basta che ci chiamino e non c'è nessun problema. Quindi Marino Fa Mercato è una catena che c'è in tutta Italia? È una catena italiana, a nord ci sono due punti vendita gestiti da noi che sono Badia Polesine, che è quello di oggi, e Casale di Scodogia, ci sono altri 12 punti vendita distribuiti verso Lazio, Toscana, Umbria, facciamo parte di questa catena e vediamo di riuscire a fare cose buone. Grazie. Grazie a voi.